Ciao ragazzi, benvenuti ancora in un nuovissimo video di Brazo Crew E oggi siamo ritornati con un nuovissimo video Cioè, questo sarà un video informativo, un video spiegazione Come avete visto sul canale, non ci sono video da circa 20 giorni, più o meno È un problema, ma ho preferito far così piuttosto che far uscire un video ogni tanto, così, a random Allora, cosa ho fatto? Dovevo partire per il Giappone, per dei problemi, non sono più partito Volevo portare dei contenuti, vlog, so che vi piacciono tanto i vlog E mi è saltato il Giappone Quindi, come mi sono detto, c'era la possibilità di andare in Brasile Ho detto, quasi quasi, ritorno in Brasile solo per registrare un sacco di video Come vedete, ho ancora gli occhi abbottati, perché mi sono svegliato un po' tardi Ho ancora il fuso orario, perché appunto sono stato in Brasile 15 giorni Ho fatto un sacco, ma un sacco di video Un sacco di cose interessanti Ho fatto video con il microscopio Mentre si vede, mentre vedo Abbiamo catturato, ci ho catturato Abbiamo trovato un serpente a suonagli Quindi l'abbiamo visto il serpente a suonagli al microscopio Non ve lo per... Cioè, raga Premete la campanella adesso, così Andate subito sulla campanella Premetela Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché in settimana, da questa settimana fino alla prossima, eccetera Usciranno quattro video questa settimana Quindi lunedì, mercoledì, venerdì, domenica Poi lunedì, mercoledì, venerdì, domenica Farò così Questa sarà la cadenza dei video Dove vi farò vedere un sacco di cose La mia esperienza in Brasile L'altra volta siamo entrati proprio dentro una favela Adesso non ho fatto una cosa proprio così pericolosa Ma ho fatto... Sono stato un po' nella giungla Sono stato a Rio Ho visitato... Sono andato sul Cristo Head & Tour Sono andato al pan di zucchero Ehm... Ci sono tante cose da vedere Veramente tante Tutto registrato Tutto ripreso per bene Ho ripreso sia con la telecamera Con la mia normale Sia con la GoPro Infatti per alcuni video L'audio non sarà proprio il top Però L'importante È farlo vedere Cioè Comunque informarvi E documentarvi Perché ho fatto vedere delle cose Delle parti di San Paolo Come l'altra volta D'altronde Che non avete mai visto Nel frattempo vi chiedo scusa Per non aver caricato video Molti di voi Che mi avete seguito Nei social Quindi mi avete seguito su Instagram Avete visto Che sono stato appunto in Brasile Quindi vi chiedo soltanto Di avere un po' di pazienza Perché 3-4 volte a settimana Uscirà un video Alle 14.30 E la domenica Cercherò di farlo uscire Verso le 13.30 Va bene Come orario 14.30 Lunedì Mercoledì Venerdì E la domenica Alle 13.30 Seguiti tutti i video Premete la campanella Come vi ho detto È stato veramente Figo Adesso sono 5 ore Di differenza Dal Brasile Infatti Mi sono svegliato Sono andato a dormire Alle 4 del mattino Qui Che lì praticamente Erano le 11 Mi sono svegliato tardissimo Mi sono svegliato tipo Alle 10 e mezza Ero tipo morto Gli occhi non riuscivo ad aprire Mi sono spellato tutto Guarda vi faccio vedere una cosa Guarda Tutto spellato La schiena fa Abbastanza Schifo Mi sono stionato Tutto completamente Quindi ragazzi Mi raccomando Mercoledì Alle ore 14.30 Il primo video Del Brasile E subito venerdì Un altro Ancora più figo Ci conto Condividete questo video Se non l'avete fatto Spargete la voce Tra i vostri amici Perché Ci sono delle novità Bella Chi sonne Voi Voi Alla